E' stata ribattezzata legge mancia, ovvero quasi 14 milioni di euro a disposizione di tutti i consiglieri regionali, quindi anche quelli di opposizione, somma da poter elargire a propria totale discrezionalità ad enti e associazioni del territorio regionale. Un modus operandi che questa estate ha acceso molto il dibattito politico sia in consiglio che tre partiti, soprattutto quelli di opposizione. Questa mattina sul Quotidiano Il Centro il capogruppo di Patto per l'Abruzzo, Luciano D'Amico, rilancia l'invito ad un uso più trasparente ed utile di questi fondi pubblici a partire dai suoi alleati di coalizione. Consigliere Taglieri, siete d'accordo su questo invito da parte di Luciano D'Amico, di maggior trasparenza, anche discrezionalità? Riguarda un po' tutti i consiglieri regionali? Assolutamente sì. Vorrei ricordare a tutti che le stesse risorse che sono state impegnate, ipoteticamente impegnate, pari a 22 milioni e che oggi si attestano a circa 14, già lo scorso anno avevamo chiesto che venissero utilizzate solamente per la crisi in agricoltura per la veronospera e quindi a sostegno delle imprese agricole. Quest'anno abbiamo soltanto enfatizzato quel tema dicendo che ci potrebbe essere una maggiore trasparenza e l'utilizzo di queste risorse potrebbe essere impegnato su crisi che quotidianamente attaglieranno questa regione. Non più di qualche ora fa siamo usciti da Gabanelli dichiarando che per la presa in carico l'ASR 02 Lanciano Vastochieti è tra le prime cinque più disastrate in Italia. Ecco, magari anche da lì si potrebbe ripartire ma poi c'è il sociale, c'è l'ambiente, c'è l'agricoltura. L'unica cosa che è stata chiesta, sì va bene quelle che sono le misure, si va bene quelli che sono gli interventi da parte di tutti i consiglieri ma si può fare anche in maniera diversa, cosa che invece questa maggioranza continua a non volere e continua a voler avere quella discrezionalità che molto spesso utilizza in maniera non corretta quelle che sono le risorse e i soldi degli abruzzesi. La strada di un maggior controllo di come vengono spessi i soldi viene caldeggiata anche dalla maggioranza, come spiega il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Massimo Verrecchia. Abbiamo come maggioranza voluto rivedere un attimo quello che era l'aspetto finanziario e economico per dare maggiore certezza di copertura agli atti che andremo a deliberare, quindi una maggiore garanzia sui finanziamenti e soprattutto un aiuto a tanti comuni, associazioni sportive, culturali, del sociale che avranno una risposta da questa maggioranza e dal Consiglio regionale d'Abruzzo. Grazie 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 Grazie